Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi parlo della R6 e di come mai sono passato da Reflex, quindi con la 5D Mark III, con la 1DX Mark II, alla R6. Il passaggio da Reflex a mirrorless per me non è stato poi così semplice, anche perché il mondo mirrorless ormai c'è da tanti anni e io ci sono, diciamo, approdato solo ora. Però, dopo aver provato questa R6, ho deciso, seppur rimpiangendo la mia 1DX Mark II, di passare al sistema mirrorless. Per una serie di caratteristiche che rendono il lavoro più facile, più veloce e più che altro, che è la cosa più importante, mi fanno portare a casa più foto fatte bene. Allora, le cose, diciamo, che io ritengo positive della R6 o comunque del mondo mirrorless rispetto al mondo Reflex non sono molte. Non ho fatto un passaggio perché il nuovo sistema sconvolgeva completamente il mondo Reflex. Le differenze sono poche, ma quelle poche che ci sono, appunto, fanno la differenza. Partiamo soprattutto dal peso. Ora, non che questo sia una cosa estremamente importante, anzi, cioè avere una macchina più piccola, leggera, sicuramente è più comodo da portarsi dietro. Se ci levo l'obiettivo è veramente compatta. In più c'è l'adattatore perché io uso ancora le lenti EF e non le nuove lenti RF. Se levassi anche l'adattatore, ovviamente avrei una macchina ancora più leggera. La leggerezza della macchina fotografica può andar bene per un fotografo di street photography, per un fotografo di ritratti, per qualcuno che fa matrimoni. Ma per chi come me fa fotografia naturalistica, una macchina troppo, troppo leggera, alla fine diventa, diciamo, un fattore negativo rispetto a avere una macchina pesante. Mi spiego meglio. La mia 1DX Mark II, che pesa, penso, un chile due, un chile e mezzo, in confronto ai 600 grammi di questa, è più del doppio. Però dobbiamo considerare che chi fa fotografia naturalistica tendenzialmente usa obiettivi, se non quando fa paesaggi, ma usa obiettivi molto grandi. Cioè, per dire, questo è un 300 mm ed è tra i più piccoli. Però è un obiettivo che pesa praticamente 3 kg. Montato su un corpo molto leggero, quando poi si va a lavorare tutto il peso in avanti e questo sbilanciamento dei pesi non aiuta la stabilizzazione. Ero molto più stabile quando montavo la 1DX Mark II sopra il 300 mm o sopra il Tamron. Avevo un peso maggiore, sì, da portarmi dietro, quindi più fatica, ma quando lavoravo sia sul cavaletto che a mano era tutto più bilanciato ed era più facile, tra virgolette, ottenere foto stabili, quindi nitide. Ma ovviamente, diciamo, questa può essere una cosa che ce l'ha perché se è passato a un corpo più piccolo. Perché comunque ho la possibilità di scegliere se voglio stare leggero, sto senza il battery grip, se ho bisogno di peso metto il battery grip. Anche se, devo ammettere, mi sto abituando alla leggerezza e lavoro quasi sempre senza battery grip sotto. Ma sicuramente la compattezza è dovuta, sì, al fatto che non c'è più tutto il comparto reflex degli specchi qui sopra, e quindi è tutto più leggero, ma le caratteristiche principali che mi hanno fatto scegliere di passare al mirrorless sono altre. Una su tutti, il mirino elettronico. Sì, perché avendo tolto il comparto, tutto il meccanismo reflex, quindi degli specchi dove la luce entrava dall'obiettivo, in questa maniera, incontrava uno specchio a 45 gradi che faceva andare l'immagine in alto, un altro specchio a 45 gradi che faceva uscire l'immagine direttamente nel mirino. Quindi quando noi guardavamo qui dentro, vedevamo esattamente come a occhio nudo. Ora l'immagine arriva direttamente sul sensore e al posto dello specchio qui abbiamo un LCD come questo. Un LCD molto, molto definito ovviamente. Non sono più gli LCD delle prime Sony, per esempio, di, non lo so, dieci anni fa, sette, otto anni fa. Non sono più quegli LCD lì che si vedeva un po' sgranato. Ora siamo ad altissima definizione. Devo ammettere che guardarci dentro le prime volte comunque comporta un pochino di smarrimento. Chi proviene come me dalla pellicola, poi al digitale, ma comunque con macchine reflex, è abituato a vedere come a occhio nudo. Quindi la differenza si percepisce quando si mette l'occhio dentro il mirino. Questo è normale perché ci riconosciamo da subito una visione normale, occhio nudo, e guardare un piccolo schermo, seppur definitissimo. Però i vantaggi di avere al posto del mirino uno schermo che ci dà tutta una serie di informazioni, alla fine la spunta nel livello poi finale che se ne fa, soprattutto per un professionista come me, i vantaggi che mi aiutano a portare a casa la foto quella che voglio e quindi avere anche per esempio molti più scatti con la giusta esposizione, è un vantaggio troppo enorme rispetto a poter vedere un pochino meglio attraverso il mirino. Sì, perché la cosa fondamentale di avere un mirino elettronico è quello di avere un'idea, diciamo non perfettamente l'esposizione esatta di come viene la foto, o meglio, si guarda qua dentro, si vede quello che dovrebbe venire in foto. In realtà io mi sono accorto che almeno la mia R6, pur avendo un mirino elettronico che si può regolare nella luminosità, tende sempre a farmi vedere un'immagine un pochino più luminosa, quindi un pochino più sovraesposta rispetto alla foto originale, ma di poco, basta abituarci su un attimo e questo problema diciamo si supera. Però comunque riesco subito a vedere se ho una vera sovraesposizione o una vera sottoesposizione nelle mie foto, quindi se passo a fotografare da un soggetto al sole, mi giro e ce n'ho uno all'ombra, riesco subito a regolare molto più velocemente e più che altro ad essere preciso nella regolazione a ottenere la giusta esposizione. In più posso vedere, oltre ai soliti parametri che vedevo prima, come tempo di scatto, diaframma, ISO, per esempio posso vedere l'istogramma. Vedere l'istogramma dentro il mirino è ovviamente un aiuto per chi sa leggere l'istogramma, un aiuto enorme, enorme, in alcuni, forse non tutti i tipi di fotografia, ma in alcuni è veramente fondamentale, soprattutto quando si è di fronte a situazioni di luce critica, quindi per esempio immaginatevi un bosco dove abbiamo un daino in lontananza, al sole e tutto il resto del bosco in ombra. Bilanciare le due cose non è così facile come una reflex, ci vuole molta molta esperienza. Ci vuole comunque esperienza anche con le mirrorless, ma poter vedere da subito un'anteprima dell'esposizione attraverso il mirino è un aiuto, io l'ho trovato veramente una cosa in più, ma un aiuto grande, molto grande. Alte particolarità? Ok, questo non è tanto dovuto al fatto che è una mirrorless, ma che la tecnologia avanza, è un modello di ultima generazione, l'ultimo modello che hanno insieme alla R5, quindi a livello di ISO siamo al top delle prestazioni. Ho preferito la R6 proprio per un discorso anche di ISO. Sì, non ho i 45 megapixel della R5, ne ho solo 20, però questo mi comporta una migliore resa agli ISO. Sì, perché più megapixel avete a parità di ISO, più disturbo avrete, quindi più grana avrete. Avere 20 megapixel, che poi sono gli stessi che avevo nella mia 1DX Mark II, quindi non ho, diciamo, avuto un calo di megapixel, quindi una perdita, ma la resa degli ISO, anche se nella 1DX Mark II era già notevole, qui è leggermente meglio. Parlo leggermente non vuol dire che, diciamo, l'aumento è poco importante. Considerate che già nella 1DX Mark II la resa degli ISO era elevatissima. Avendo anche incrementato di poco, siamo con la R6 arrivati a risultati eccezionali. Un pochino meglio della R6 c'è solo al momento la 1DX Mark III, in casa Canon intendo. L'altra cosa fondamentale, secondo me, che mi ha convinto a fare il passaggio è la stabilizzazione interna, che per fortuna Canon ha messo anche lei nelle sue macchine. La Sony ormai ce l'ha da non so quanti anni, la usava già nel mondo del cinema la Sony. Ora la Canon per fortuna l'ha messa anche nelle sue macchine. Che vuol dire? Vuol dire che indipendentemente dall'obiettivo che monto sopra la macchina, anche se l'obiettivo non è stabilizzato, posso scegliere di avere una stabilizzazione che stabilizza l'immagine sul sensore, muovendo il sensore. Questo ovviamente è un enorme vantaggio, soprattutto con i tele, quindi con obiettivi molto lunghi. Ma per chi come me fa anche video, ecco, per esempio mi ha permesso di poter usare il 50 mm 1.8 che sto utilizzando ora per fare il video, poterlo utilizzare sull'R6 e averlo stabilizzato. E per i video è notevole questa cosa. Bene, cominciamo ora però ad andare un pochino nel dettaglio, perché quello di cui vi voglio parlare oggi dell'R6 non è di tutto il suo menu, ma di quelle che secondo me sono le funzioni, diciamo, principali che la differenziano da, sì dal mondo reflex, ma anche dalle altre minrolesse di concorrenza. Principalmente sono tre le cose di cui vi voglio parlare. L'otturatore, il mirino, il viewfinder, quindi il mirino un pochino più nel dettaglio e soprattutto l'autofocus, perché il cuore della macchina, veramente l'anima di questa macchina, di come di tutte e un po' le ultime canon, è l'autofocus. Partiamo però ora dall'otturatore. Sì, perché l'otturatore, che vi ricordo, sta qui. L'otturatore nelle mirrorless, siccome tutto è digitale, può essere meccanico, quindi meccanicamente proprio nel momento che si scatta si apre l'otturatore e quando è finito lo scatto si richiude, o elettronico, cioè l'otturatore si apre, resta sempre aperto e quando noi andiamo a scattare l'otturatore non si muove, ma semplicemente è un po' come quando si accende nelle vecchie reflex, si accendeva in live view dietro. Si alzava lo specchio, si apriva l'otturatore e il sensore immagazzinava luce e registrava le immagini continuamente. Uguale, qui ovviamente questo succede sempre, perché l'otturatore anche con l'otturatore meccanico in funzione, quando si lavora e si guarda dentro il mirino, l'otturatore è aperto perché il sensore è sempre esposto alla luce, altrimenti dal mirino elettronico non vedremo niente. Con l'otturatore elettronico ovviamente l'otturatore non si muove, quello meccanico resta aperto e quindi noi possiamo registrare immagini in continuazione. Nel momento che premiamo registriamo le immagini. Infatti con queste due funzioni anche la capacità di fare un tot di foto al secondo cambia, perché con l'otturatore meccanico la R6 fa 12 fotogrammi al secondo, però qui bisogna aprire una parentesi, non con tutti gli obiettivi e ci sono altre piccole accortezze, però ora vedremo. E con l'otturatore elettronico fa ben 20 fotogrammi al secondo. Bene, per la mia esperienza vi dico, 12 fotogrammi al secondo sono già sufficienti, 20 sono meglio sicuramente per catturare ogni attimo, per esempio di un uccello in volo o di un animale che corre, però già 12 sono ottimi. Nella mia 1DX Mark II ne avevo 14, quindi un pochino già di più con l'otturatore ovviamente meccanico, due in più a questa, ma già 12 sono ben sufficienti. La cosa però fondamentale e che vi assicuro ha cambiato totalmente l'approccio con l'animale nel mio lavoro è il fatto che quando lavoro con l'otturatore elettronico non c'è rumore. Per carità, devo ammettere che c'è pochissimo rumore anche con l'otturatore meccanico. Vi faccio sentire. Imposto l'otturatore meccanico, questo è il rumore dell'otturatore meccanico. Bassissimo, pochissimo. Ma nel momento in cui si passa all'otturatore elettronico, se io premo, ho appena scattato, non c'è alcun rumore, se no un leggerissimo rumorino anche del motorino della stabilizzazione. Ma non so di preciso da cosa dipenda questo rumorino, ma è veramente impercettibile. Dobbiamo accostare all'orecchio per sentirlo. E non solo. Se io imposto il multiscatto, e ora scatto, e premo per un secondo, ho appena fatto 20 foto. È notevole. Perché è notevole? Perché io vi assicuro che dopo aver fatto ricerca su, per esempio, su un animale, su una tipologia di animale, sul suo habitat, aver trovato il punto dove mangia, dove si riposa, dove passa tutti i giorni, essermi appostato, molto spesso arrivavo al momento clou che l'animale si faceva vivo, si avvicinava, e il rumore, soprattutto della 1DX Mark II, che è una macchina stupenda, ma l'otturatore è un carro armato, ecco, diciamo. E vi assicuro che quasi tutte le volte che l'animale si avvicinava abbastanza, sotto i 50 metri, ma anche già a 50 metri, al primo scatto, l'animale sentiva il rumore, alzava la testa, guardava in direzione del rumore, e al mio primo, primo movimento, anche piccolissimo, l'animale scappava. Questo mi ha rovinato tantissime, tantissime foto e tantissimi monumenti. Da quando ho la mirrorless e scatto con l'otturatore elettronico, vi assicuro, nessun animale è più scappato, se non perché si avvicinava troppo e allora, per mantenere anche il rispetto, ho fatto il rumore volontariamente e facendo allontanare l'animale. Se no, altrimenti, se siamo ben mimetizzati, nascosti, anche dentro un capanno, gli animali non ci sentono. E questo, secondo me, è notevole. Uno, perché si crea meno stress nell'animale, perché può passare, noi lo possiamo fotografare e se ne arriva senza essersi mai accorto di noi. E in più, possiamo ottenere quelle foto che prima non c'era versi, non potevamo ottenere. Piccola parentesi, però, dell'otturatore meccanico. Perché? Perché l'otturatore meccanico, che fa 12 frame al secondo, scatta 12 frame al secondo solo con determinate caratteristiche. Cioè, intanto, la batteria. La batteria è la stessa LP6, se non sbaglio, si chiama, ma è la stessa della 5D Mark III, della 6D Mark II. Però, per la R6, l'hanno fatta più, diciamo, più potente, che dura di più, perché ovviamente deve alimentare non solo questo LCD, ma questo, il mirino, che sta sempre acceso. e tutto è più digitale, quindi c'è bisogno di più potenza. Ma, soprattutto, io questo non so, e non l'ho mai trovato, non ho capito, se è un modo di marketing per farci comprare la batteria sua, cioè la batteria, quella più potente, perché senza questa batteria, la sua dedicata, i 12 frame al secondo non si hanno. Si scende a 6-7 frame al secondo. Ci vuole solo la sua batteria. Che vuol dire? Vuol dire che si può prendere una vecchia batteria, come ce l'ho io, della 5D Mark II, montarla qui e si può lavorare tranquillamente, ma non con 12 frame al secondo. Mettendo l'otturatore elettronico, però, se ne può fare 20 comunque, che almeno lì siamo tranquilli. In più, però, con l'otturatore meccanico, io non posso scattare 12 frame al secondo con il mio vecchio 300 mm, 2,8 stabilizzato. Questa è la prima serie della versione stabilizzata. Questo è un obiettivo iniziato l'anno prodotto nel 99, hanno iniziato a produrlo. Credo, non ho ancora fatto una ricerca precisa, ma credo che il problema sia semplicemente che i pin che ci sono qui, essendo un obiettivo di vecchia generazione, non dialogano alla perfezione con il nuovo inserto degli obiettivi RF che poi ci monta il suo adattatore per arrivare dagli obiettivi RF agli obiettivi EF. perché i nuovi obiettivi RF cioè gli obiettivi per le mirrorless hanno la bocca più grande e più pin. Quindi serve appunto un adattatore che riporta questa apertura alla misura per gli obiettivi standard e con i pin giusti. Quindi, con il mio Canon 300 mm, 2,8 stabilizzato, non posso scattare a 12 frame al secondo con l'otturatore meccanico. Con il Tamron 150-600 G2 un obiettivo del 2016 sì, con questo va. È per questo che penso che il problema sia appunto che il mio obiettivo è un po' datato. Piccola parentesi, con la 1DX Mark II però con il Canon potevo scattare a 14 frame al secondo. Quindi penso sia proprio un problema, ma una limitazione tra, diciamo, il dialogo tra il vecchio innesto F e il nuovo innesto RF seppur l'adattatore sia il suo originale Canon. Beh, comunque posso sempre anche col mio Canon scattare con l'otturatore elettronico a 20 frame al secondo. Parlando dell'otturatore elettronico e meccanico forse alcuni di voi però sapranno che con l'otturatore elettronico si può incorrere in qualche problema di distorsione delle immagini. Ecco, questo succede soprattutto per chi fa fotografia, dico sportiva, perché? Perché succede in pratica quando si ha un soggetto che si muove in maniera orizzontale molto, molto velocemente e noi lo andiamo a fotografare con l'otturatore elettronico può accadere che il soggetto venga leggermente sformato. Ora, questo avviene bene per esempio per un giocatore di golf dove il soggetto è fermo ma è la mazza che si muove velocissima in maniera diciamo più o meno orizzontale ok? O comunque anche dall'alto al basso ma si muove da una parte all'altra molto velocemente e noi nello stesso tempo scattiamo molte foto ma restando fermi. Quindi il problema si ha quando la macchina è ferma e scatta e c'è un soggetto che passa in maniera orizzontale molto velocemente. Io questo problema non lo avverto moltissimo o meglio mi sono accorto che alcune foto erano leggermente leggermente distorte perché ho fatto la stessa foto sullo stesso soggetto anche con l'otturatore meccanico ma vi assicuro che la differenza era millimetrica. se non avessi avuto la foto fatta con l'otturatore meccanico per un confronto non me ne sarei accorto perché l'immagine non risulta strana. Perché questo in natura e secondo me in fotografia naturalistica questo non si avverte? perché nove volte su dieci quando abbiamo un soggetto che si muove in maniera orizzontale quindi un uccello per esempio che vola sul pelo dell'acqua o un dino che corre una lepre un lupo noi non stiamo fermi quando lo fotografiamo lo seguiamo e cerchiamo di mantenerlo all'interno dell'inquadratura questo fa sì che per la macchina fotografica il soggetto in realtà sia fermo all'interno dell'immagine quindi questa leggera distorsione per esempio su un dino che corre si può avvertire per esempio sulle zampe ok però vi assicuro io al momento continuo a usare l'atturatore elettronico perché tutta questa distorsione non ce la vedo poi vedrò più avanti a me fanno comodo 20 frame al secondo ma più che altro mi fa comodo lo scatto silenzioso il viewfinder e poi arriviamo all'autofocus che è la parte principale il viewfinder come vi dicevo è forse una delle cose dopo l'autofocus più importanti nel mondo mirrorless sì perché qua dentro vedo non solo l'esposizione reale di come verrà la foto e anche i colori quindi un bilanciamento del bianco ma vedo tutta quella serie di informazioni che sono secondo me importantissime o comunque se non lo sono le potete togliere ma se vi servono ci sono in più il viewfinder si può regolare in base alla luminosità dell'ambiente circostante ha qui dietro un sensore che come si appoggia l'occhio fa spengere il lcd e si accende il sensore qui il viewfinder vi faccio vedere come appoggio l'occhio vedete si spenge questa impostazione qui è una delle tante potete usare impostare che usate solo il mirino solo le lcd entrambi insomma potete fare c'è un po' di in tutti i modi dentro il mirino posso vedere come vi dicevo l'istogramma che secondo me è una cosa fondamentale ma un'altra cosa molto molto carina è che per esempio posso andare a rivedere le foto immaginatevi vi sarà capitato di voler riguardare le foto sotto il sole pieno sole alle 2 del pomeriggio e vedete malissimo o più che altro le foto vi servono vi sembrano sempre molto più scure di come in realtà poi le vedrete sul computer guardandole dentro il mirino e quindi escludendo la luce esterna si riesce a vedere benissimo le zone d'ombra soprattutto e vedere la nostra foto si può andare quindi a rivedere la foto e quando si guarda possiamo andare anche volendo usando il tasto della lenta andare a zoomare e a spostarci nella foto per vedere bene ogni dettaglio quindi è veramente un'ottima un'ottima soluzione soprattutto quando si hanno appunto le giornate molto molto luminose o si è concentrati sul soggetto non si vuole staccare diciamo la faccia dalla macchina fotografica si vuole controllare un attimo come è venuta la foto e si può scattare altra piccola diciamo altra cosa molto molto bella che si può fare con il viewfinder e non si può fare con le reflex è quella di mentre si registra video non dover stare così a guardare il video dentro le lcd anche se lo schermo si muove ribaltabile ma possiamo stare con l'occhio inserito appoggiato e guardare il video che restiamo registrando direttamente nel mirino questo fa sì che appunto esclude la luce esterna quindi vediamo molto meglio le immagini e più che altro si sta molto più stabili perché si è appoggiati alla faccia e si riesce a fare molto di più e si può passare per registrare da fare foto a video semplicemente cambiando spostando il dito da un tasto all'altro senza dover staccare l'occhio andare nel menu girare una ghiera è veramente diciamo tutto diventa molto molto veloce e tutti i dati sia delle foto che dei video continuiamo a vederli all'interno del mirino quindi ora veniamo alla parte diciamo il cuore della macchina la parte più importante il passaggio vero che c'è stato da reflex a mirrorless ha portato il cambiamento soprattutto nel comparto autofocus sì perché con la tecnologia che è andata avanti sapete tutti tutti i cellulari la Sony lo adotta già nelle macchine già da diversi anni il riconoscimento del volto bene questa cosa Canon ci è arrivata diciamo un attimino in ritardo o meglio la mia 5D Mark 3 con cui sto registrando durante un filmato ha il riconoscimento del volto ma non ha l'autofocus continuo cioè non riesce a seguire un soggetto riconosce un volto poi noi diciamo premiamo il tasto per mettere a fuoco lo mette a fuoco ma di si ferma non continua a seguirlo e quindi diciamo ha un riconoscimento il volto che diciamo ha poco senso nelle nuove mirrorless soprattutto in Sony che appunto lo adotta da tanti anni ma con l'arrivo della serie R della Canon ora lo abbiamo anche qua e nella R6 nella R5 è stato aumentato ampliato perché ora non riconosce solo i volti umani ma riconosce anche gli animali e addirittura c'è la funzione dell'eye detection cioè il riconoscimento dell'occhio che negli umani funziona alla perfezione ma funziona molto bene anche con gli animali ho provato un po' su tanti tipi di animali serve che il soggetto sia abbastanza grande nella foto quindi diciamo quando si ha un uccello per esempio che si muove su un lago ma molto molto lontano e quindi l'uccello è piccolo nella foto ovviamente la macchina non riconosce l'occhio però riconosce benissimo tutto l'animale e lo mette a fuoco continuamente quando l'animale è lontano avrebbe anche poco senso mettere a fuoco l'occhio e non il corpo dell'animale soprattutto per gli uccelli quando sono lontani piccoli nella foto nell'inquadratura l'occhio e il corpo sono per la macchina alla stessa distanza quindi rientrano comunque dentro l'approfondità di campo e in questo modo la macchina fa un lavoro eccezionale certo lo fa eccezionale come lo fa eccezionale la Sony come lo fa diciamo ultimamente lo sta facendo bene anche la Nikon non so dirvi le altre marche perché non ho mai provato però so che comunque la Fuji e altre marche fanno comunque un ottimo un ottimo lavoro nella messa a fuoco del riconoscimento dei volti e anche degli animali la macchina fotografica per quanto riguarda l'autofocus ha un menu enorme ha la possibilità di farvi scegliere soprattutto nel comparto foto farvi scegliere più punti di messa a fuoco cioè si può scegliere la messa a fuoco del singolo punto piccolo un punto più grande punti a croce una rosa di punti e le zone ok sono tutte impostazioni che diciamo dovete usare in base a dove vorrete posizionare il vostro soggetto all'interno della foto in natura io ho provato un po' tutte queste impostazioni in natura quando gli animali sono fermi è tutto facile si può lavorare anche tranquillamente con il singolo punto di messa a fuoco ma quando gli animali si muovono i uccelli prendono il volo o atterrano i cinghiali si muovono i lupi corrono i daini saltano diventa un po' complicato mantenere un singolo punto sul soggetto bene in questo caso l'autofocus che segue il soggetto quindi il tracking funziona alla grande però comunque la macchina ha altre impostazioni perché possiamo far rifare il tracking su tutto la foto da bordo a bordo da angolo a angolo oppure scegliere se noi sappiamo che il nostro soggetto lo vogliamo per esempio da una parte nella foto scegliere un'area semplicemente della foto quella di destra e noi il nostro unico compito è tenere il soggetto in quell'area poi sarà la macchina a muovere diciamo i vari usare tutti i vari pallini quindi a seguire il soggetto dentro quell'area come imposto io la messa a fuoco sulla R6 perché poi la cosa diciamo fondamentale nel passaggio tra reflex a mirrorless è appunto le impostazioni che si possono dare alla macchina mirrorless sì perché ogni tasto è personalizzabile questo avveniva già nelle reflex ma non in maniera totale almeno non sulla mia 5D Mark III o sulla 1D X Mark II si potevano impostare buona parte dei tasti e delle ghiere ma non c'era tutta la libertà che c'è qui qui in pratica si può andare a dire alla macchina le ghiere che ci sono a cosa servono ogni tasto a cosa serve e quindi andare a personalizzare il più possibile la macchina in base al proprio stile di fotografia e alla tipologia di foto che si fanno io dovendo fare fotografia naturalistica quindi dove passo molto spesso e molto velocemente da una fotografia statica per esempio un paesaggio o comunque un paesaggio con un animale all'interno ma l'animale più o meno fermo quindi una fotografia abbastanza diciamo paesaggistica a fotografia di azioni in movimento per poter passare da una all'altra in maniera veloce usavo la messa a fuoco con il tasto posteriore ho già fatto un video su come impostare e perché impostare la messa a fuoco non più sul tasto principale quello di scatto ma sul tasto posteriore di messa a fuoco ho già fatto un video e vi lascio qui sopra il link e poi lo troverete anche in descrizione quindi già nelle mie reflex io avevo impostato il tasto di messa a fuoco posteriore sul tasto che si chiama IF ON questo lo facevo già con le reflex quindi non devo non dovevo più cioè con il tasto diciamo di messa a fuoco posteriore non si deve più andare a cambiare nel menu passare da un one shot a servo se diciamo si passa da fotografare un paesaggio anima a un soggetto in movimento posso semplicemente farlo scegliendo se premere e lasciare o mantenere la pressione e questo è già un notevole aiuto ma con le mirrorless ovviamente c'è in aggiunta un nuovo riconoscimento di messa a fuoco cioè quello del volto o quello dell'animale come diciamo lo attivo no? la mia domanda era come faccio a attivarlo? cioè se sto fotografando un paesaggio dove non ho bisogno di che non ho bisogno che la macchina mi riconosca qualcosa sono io che scego col mio pallino dove mettere a fuoco bene quindi uso il pallino centrale per esempio ho uno dei tanti pallini ma uso un pallino singolo per mettere a fuoco poi a un certo punto mi giro e devo fotografare un animale che corre cosa facevo prima? usavo sempre quel pallino e gli andavo dietro tenendo premuto il tasto di messa a fuoco ora invece no voglio mentre mi giro l'animale parte voglio che la macchina riconosca l'animale e che da sola lo insegua senza che io debba sforzarmi a tenere il pallino sopra il soggetto e in questo diciamo senza impostare nient'altro sarei dovuto andare cioè dovrei andare nel menu cambiare la messa a fuoco da singolo pallino a il simbolino del viso del sorriso e poi cominciare a fare le foto ma questo è una diciamo una perdita di tempo ovviamente nelle mirrorless si può dire alla macchina che con un altro tasto se premuto passi direttamente alla messa a fuoco col tracciamento io quindi ho impostato il tasto del blocco dell'esposizione quindi quello che diciamo al simbolo dell'asterisco l'ho impostato come tasto che nel momento che lo premo e ha le stesse funzioni del tasto AF e ON cioè se lo tengo premuto continuo a seguire il soggetto se lo tengo premuto si attiva automaticamente la messa a fuoco quella dove riconosce l'animale riconosce l'occhio se riesce a vederlo e lo insegue senza che io vada nel menu a dirgli cambia metti il riconoscimento dell'occhio metti il riconoscimento dell'animale metti il riconoscimento il tracciamento del soggetto è già tutto impostato qui il tasto del blocco dell'esposizione non mi serve più perché io il blocco dell'esposizione l'ho impostato sul tasto di scatto in pratica il mio tasto di scatto se premo a metà corsa non mette più a fuoco ma blocca l'esposizione se premo di più scatta quindi ho questo tasto qui quello dell'asterisco libero ed è molto vicino al tasto di messa a fuoco normale quello posteriore quindi riesco senza dover staccare l'occhio dalla macchina senza dover fare nessun cambiamento né premere nessun altro tasto posso scegliere se passare da mettere a fuoco il soggetto dietro un pallino che sceggo io o fare in modo che la macchina riconosca il soggetto e lo segua in autonomia questo vi assicuro ha cambiato ha svoltato la mia fotografia perché non ho più perso l'attimo in natura gli animali quando li vediamo tendenzialmente abbiamo in media dai mezzo secondo a se ci va bene cinque secondi di tempo per scattare prima che l'animale se ne vada questo ovviamente quando non siamo dentro una tenda mimetica ma siamo per esempio fare caccia fotografica si mettiamo mimetizzati ma siamo comunque ci stiamo muovendo stiamo facendo rumore giriamo mettiamo nel bosco vediamo un daino che passa c'è quel secondo quei due tre secondi in cui gli sguardi diciamo si incrociano il daino ci guarda per capire chi siamo e poi se ne va noi abbiamo appunto quei massimo cinque secondi per fare la foto se dovete in questi cinque secondi cambiare un'opzione sul menù capite bene che o era già tutto impostato prima o se no la foto non si fa vi assicuro che questo metodo spostando semplicemente da qui a qui il dito ha fatto sì che quei cinque secondi bastassero per scattare anche diciamo più foto perché io nel momento poi che premo ok non parte con una foto ma me ne fa 20 al secondo o anche 12 sui strutturatori comunque impostando il multiscatto riesco in quei pochi secondi che ho di tempo a portare a casa la foto e questo ovviamente fa no la differenza di più perché un conto è dire ho scattata bene l'inquadratura insomma potevo farla un pochino di più e un conto è dire l'ho scattata o non l'ho scattata non c'è alternativa già scattarla con un'inquadratura leggermente non proprio perfetta va bene semmai si aggiusta dopo cioè però se non si scatta neanche ovviamente il gioco non neanche siamo fuori partita da subito ok e quindi alla lunga poi diventa frustrante quindi andiamo vi faccio vedere com'è che io ho impostato questi due tasti nel menu per far sì che io possa passare da una messa a fuoco sul singolo punto a una messa a fuoco di tracciamento per poter assegnare le funzioni che vogliamo a i due tasti quindi AFON e asterisco dobbiamo premere il pulsante Q andare sul simbolino della macchina fotografica e qui scegliere di personalizzare i bottoni come ci muoviamo la macchina ci mostra a quale tasto ci stiamo riferendo nel disegno la prima cosa che dobbiamo fare è andare a impostare come si è detto che il tasto AFON deve essere il tasto di messa a fuoco quindi impostiamo la messa a fuoco con la misurazione dell'esposizione e ovviamente a questo punto il tasto di scatto non è più il tasto di messa a fuoco ma deve essere il tasto semplicemente di scatto e misurazione dell'esposizione in questo caso io lo uso come tasto di scatto e blocco dell'esposizione quindi con l'asterisco poi dobbiamo andare a dirgli che il tasto in realtà invece quello dedicato al blocco dell'esposizione quindi il tasto dell'asterisco deve avere la funzione di messa a fuoco con l'occhio cioè l'eye detection quindi con il tracciamento una volta settato questo abbiamo fatto ora andiamo a vedere come impostare questi due tasti cioè i loro parametri all'interno del menu dell'autofocus si va nel menu sono andato nel menu nella sezione ovviamente dell'autofocus nel primo menu dell'autofocus ci troviamo la prima cosa che ci chiede è se vogliamo mettere un'impostazione appunto di messa a fuoco one shot o servo come vi ho detto io imposto che il mio tasto di messa a fuoco a FON sia un tasto dove sono io a scegliere se fare una messa a fuoco un one shot cioè metto a fuoco un punto e lì rimane la messa a fuoco o seguire il soggetto e lo faccio semplicemente decidendo se premere e lasciare o tenere premuto però per far sì che il tasto funzioni in questa maniera nel menu dovete impostare la messa a fuoco servo sotto metto la messa a fuoco ci fa scegliere che tipo di modalità di messa a fuoco cioè la modalità quella appunto con riconoscimento e il tracciamento di un volto o di un animale il singolo punto piccolo un punto più grande la croce e così via e le varie zone come vi ho detto il tasto F on mi serve lo uso per fare la foto anche con il con la messa a fuoco continua ma del singolo punto quindi imposto non il viso il riconoscimento col tracciamento ma un singolo punto piccolo grande o la croce come volete io imposto il quadratino piccolo poi imposto che il soggetto da tracciare deve essere o una persona o un animale ovviamente questo è ovvio dipende da cosa state fotografando io lo imposto su animale il rilevamento dell'occhio come vedete è disabilitato perché perché per abilitarlo devo prima dirgli dovrei dire che la messa a fuoco non la voglio non la voglio sul singolo punto ma la voglio sul viso se faccio così il rilevamento dell'occhio è abilitato non c'è problema perché dopo andrò a dirgli che col tasto non è F on ma anche col tasto asterisco dovrà esattamente invece rilevare l'occhio quindi non avrò bisogno qui di azionarlo la messa a fuoco non la faccio continua cioè se io qui mettessi abilità vorrebbe dire che la macchina come tocco il tasto a F on che lo tenga premuto o no come lo tocco la macchina mette a fuoco dietro il punto e continua a mettere a fuoco ok in continuazione non voglio che sia così voglio essere io a decidere se deve continuare a mettere a fuoco quindi la modalità servo o la modalità one shot quindi la messa a fuoco continua la tengo disabilitata poi c'è ci chiede che tipo di messa a fuoco quindi se continua o non continua vuoi sul video sì perché come vi ho detto il menu per la messa a fuoco per le foto è diverso dal menu della messa a fuoco col video però quando si è su un programma foto e questo è l'altra grandissima diciamo eccezionale novità delle mirrorless si può andare a registrare senza dover girare la famosa levettina nelle reflex per passare da appunto video da foto a video ma usando appunto il tasto di registrazione questo tastino rosso che c'è qui posso tranquillamente mentre sto scattando girare spostare il dito premere andare a registrare e in questo menu appunto mi chiede se in un programma foto schiaccio il tasto del rec che tipo di messa a fuoco vuoi in questo caso io ho messo la messa a fuoco continua ok perché perché molto spesso sono a fotografare animali e faccio i video degli animali e non tanto dei paesaggi quindi 9 volte su 10 mi serve appunto la messa a fuoco continua che segua il soggetto il touch and drag cioè io ora ho il menu in inglese ma in pratica la possibilità di poter utilizzare il display passandoci il pollice sopra per spostare il pallino di messa a fuoco che altrimenti andrebbe fatto con il piccolo joystick che c'è nelle macchine o con le frecce su, giù, destra, sinistra questo questa funzione io la abilito perché anche questa è una cosa che c'è nelle mirrorless ed è funziona alla grande cioè proprio funziona benissimo lo abilito il metodo lo metto relativo e quindi quell'area che devo andare a muovere è diciamo fa parte del è metà dello schermo quello di destra e quindi riesco quando ho l'occhio appoggiato a muovere il pallino di messa a fuoco in tutto lo schermo in tutta la mia foto semplicemente spostando il pollice questo è una cosa che funziona benissimo si sposta il pallino in maniera molto veloce e molto molto precisa il paragrafo 2 è diciamo lo vediamo dopo è quello per quanto riguarda la messa a fuoco manuale andando al 3 questo è quella parte di menu che nel video non avete in pratica la Canon ci dà la possibilità di impostare la messa a fuoco con 4 tipologie diverse di soggetto cioè non tanto 4 tipi diversi di soggetto ma tipologie di movimento del soggetto in pratica si tratta di 4 casi in base al vostro soggetto per esempio un soggetto che si muove in maniera rettilinea se volete la priorità sul soggetto e quindi anche se ci passa qualcuno davanti che la macchina non si distragga e mantenga la messa a fuoco sul soggetto per soggetti per esempio come nel mio caso che si muovono che cambiano direzioni accelerano e decelerano velocemente ecco sono sono 4 casi che poi potete andare addirittura a modificare anche nelle loro impostazioni sono 4 impostazioni preinstallate che funzionano benissimo nel mio caso ho notato che in programma 1 cioè il caso 1 è quello più generale che generalizza un po' ma sia il caso 1 che il caso 4 che nello specifico invece è quando i soggetti accelerano e decelerano velocemente è quello che funziona meglio per gli animali se invece avete i soggetti per esempio fate sport bene allora diciamo dovete un attimino capire qual è il vostro qual è il movimento del vostro soggetto e quindi qual è tra questi il caso che vi si addice di più comunque entrambi tutti e 4 hanno impostazioni che funzionano veramente veramente bene io non ho dovuto cambiare niente uso o l'1 o il 4 e mi trovo benissimo il paragrafo 4 e 5 sono semplicemente delle impostazioni dove gli si va a dire per esempio come quale tasto usare per spostare i pallini di messa a fuoco cosa succede se vuoi tornare al pallino centrale semplicemente premendo il joystick insomma tutta una serie di funzioni abbastanza facili da mettere andando al reparto 2 quello appunto del focus manuale ecco questa è un'altra cosa che si è aggiunta nel mondo delle mirrorless che esisteva già nel cinema da molti anni perché il cinema è sempre andato con la messa a fuoco manuale addirittura c'è un operatore che fa solo quello nel cinema e questo diciamo per aiutare questo sistema di messa a fuoco manuale è stato creato appunto il focus peaking cioè si illumina di rosso quel soggetto che è al momento a fuoco quindi quando si sta lavorando in manuale girando la ghiera cambia la messa a fuoco ovviamente si passa da una messa a fuoco di un soggetto più vicino o più lontano ma tutto quello che in quel momento è a fuoco viene mostrato come rosso questo rosso è solamente la visione che si ha dal mirino poi ovviamente sia nella foto che nei video questo non appare la Canon aggiunge un altro sistema la guida di messa a fuoco che sono appunto queste due lineettine che si muovono si allontanano e si avvicinano e quando si sovrappongono diventano verdi quindi ci dicono che stiamo esattamente mettendo a fuoco il soggetto che è dietro il quadratino di messa a fuoco questo metodo di messa a fuoco mi ha risolto tantissimi problemi in pratica tutte le volte che si ha un soggetto nascosto da un qualcosa davanti tipo degli arbusti appunto delle foglie dei rami insomma qualcosa davanti che ci disturba la macchina fotografica cosa fa normalmente sia le vecchie vecchie diciamo sia le reflex che millimilorless con qualunque tipo di programma tracciamento no della messa a fuoco rischia di o mettervi a fuoco il soggetto davanti quindi mettiamo i rami o comunque di andare avanti e indietro con la messa a fuoco e non agganciare mai il soggetto questo diciamo porta spesso a perdere gli attimi no non riuscire a scattare la foto o per esempio a non riuscire a mettere a fuoco durante un video allora in pratica passando dalla messa a fuoco automatica a manuale con il tastino che c'è sull'obiettivo nel momento in cui si va a girare poi la ghiera della messa a fuoco si attiva il focus peaking e la guida della messa a fuoco ideata da Canon se ovviamente le avete attivate e ci permette di poter lavorare e mettere a fuoco manualmente ma essere sicuri sicuri al 100% che il nostro soggetto sia a fuoco e quindi portarsi a casa delle foto molto molto nitide io l'ho imposto in questa maniera in pratica il focus peaking lo metto diciamo lo metto su on il livello alto in modo tale che il colore si veda bene e uso il colore rosso perché ho notato che il giallo e il blu sono colori il giallo si vede poco in situazioni molto luminose e il blu invece si vede poco in situazioni più scure o comunque il blu è sempre molto presente nelle foto in esterno pensate all'acqua che è blu perché riflette il cielo un uccello fotografato mentre vola ha un cielo celeste o blu sullo sfondo i monti all'orizzonte spesso tendono ad essere bluastri perché riflettono il cielo e c'è l'umidità con quella foschia che tende a portare tutto blu quindi io mi trovo benissimo con il rosso questa funzione come vi ho detto c'è anche per la messa a fuoco nei video proprio nei video se si va nel menu del video girando la ghiera ovviamente sul programma video ci accorgiamo che il menu è più un pochino più piccolo in pratica cosa mancano mancano i casi quelli che quelle quattro quelle quattro possibilità dove diciamo la macchina è reattiva a certi movimenti del soggetto la messa a fuoco per per i video io siccome normalmente faccio video di animali l'ha imposto così cioè imposto la messa a fuoco sul tracciamento del soggetto seleziono l'animale e non la persona attivo quando attivo il riconoscimento dell'occhio in modo tale che se l'animale è abbastanza vicino e riesce la macchina a riconoscere l'occhio ho una messa a fuoco molto molto più precisa sulla parte importante dell'animale quindi l'occhio e la modalità di messa a fuoco la metto continua mantengo sempre il touch and drag cioè la possibilità di andare a spostare poi il mio pallino di messa a fuoco nel caso in cui per esempio dovessi mettere a fuoco non volessi usare la messa a fuoco continua ma volessi usare invece la messa a fuoco del singolo pallino uguale attivo il fuoco speaking e in questo caso ora ho la guida di messa a fuoco su off ma questa è una vostra scelta vedete dove vi trovate meglio alcuni per esempio notano un disturbo nell'avere il soggetto rosso quando è a fuoco allora usano la guida di messa a fuoco ma insomma è a vostra a vostra scelta gli altri due paragrafi del menu sono sempre per le impostazioni dei vari ghieri dei vari tasti e sono facili da impostare bene questo è per la messa a fuoco perché piccola precisazione vi ricordo perché uso due tasti per la messa a fuoco quindi AF on e l'asterisco perché voglio essere libero di poter decidere io se voglio che sia la macchina a tracciarmi il soggetto o nel caso mettiamo non ce lo facesse essere io a mettere a fuoco invece dietro un determinato pallino che scelgo io ok se anche questo caso non dovesse funzionare passo in modalità manuale e con il focus picking riesco a mettere a fuoco alla perfezione ciò che voglio bene ultima considerazione è sul comparto video cioè sulle impostazioni video di come che filmati registra molto velocemente così come la 1DX Mark II riesce a registrare e anche la diciamo la R5 fa anche diciamo formati in più ma la R6 riesce a registrare il 4K quindi con un video che ha come lato lungo più o meno 3.800 pixel a 60 frame al secondo al massimo 60 o 50 dipende se siete in NTSC o in PAL mi spiego meglio NTSC e PAL sono due sistemi di trasmissione video nati con le tv in Europa si usa il PAL che ha una certa frequenza in America usano l'NTSC che ha un'altra frequenza se ora col mondo del digitale questa cosa credo che stia andando un po' a scomparire ecco però ecco nelle macchine fotografiche c'è ancora questa impostazione ma il consiglio mio che vi do è impostarla su NTSC perché in pratica si riesce a girare video a più frame al secondo il 4K si fa 60 frame contro il PAL che è a 50 frame cosa vuol dire avere più frame al secondo avere più possibilità se si vuole di rallentare e fare uno slow motion ok considerate che se avete state girando un video ad esempio a 24 frame al secondo e lo volete rallentare volete che duri il doppio quindi diciamo tutto diventa più lento i movimenti si rallentano talmente tanto che da 24 frame al secondo si passerebbe più o meno alla metà cioè 12 frame al secondo e sotto 18-20 frame al secondo l'occhio umano non vede più un video ma vede a scatti quindi se si gira in 24 frame al secondo non si può poi andare a rallentare più di tanto poi ci sono dei sistemi con i software per diciamo ingannare un po' l'effetto a scatti ma comunque non si può far più di tanto e volendo mantenere anche una buona qualità quindi se si vogliono fare dei rallent si deve scattare a più frame al secondo possibili la R6 sia in 4k che in full hd riesce a registrare a 60 frame al secondo o a 30 frame al secondo o a 23,9 frame al secondo perché c'è questo 23,9? perché il cinema standard del cinema classico viene girato in 24 frame al secondo si ha un effetto molto più naturale delle immagini che poi piccola parentesi ma la chiudo subito questo è legato alla velocità di scatto che si usa nel video però questo diciamo ora non c'entra la macchina R6 però se volete veramente fare un rallent ti può fare un video in modalità full hd non in 4k solo full hd ma a 120 frame al secondo però senza audio questa è diciamo l'unica pecca diciamo altra importante considerazione che c'è da dire sul comparto video è che finalmente anche la Canon la Sony ormai ce la dà tantissimo ma anche la Canon ha l'impostazione del profilo colore long cioè un profilo colore molto piatto che uno lo guarda in inizio e dice che troiaio è ma in realtà è un profilo colore dove i contrasti sono abbassati tantissimo e la gamma dinamica cioè la capacità di prendere di registrare più colori possibili sia sui colori chiari vicino al bianco sia i colori scuri vicino al nero e quindi si ha alla fine un video che è molto più recuperabile dopo in post-produzione cioè in situazioni critiche di luce si ha meno zone bruciate al bianco e meno zone bruciate al nero e colori più reali bene con questo è tutto o meglio non è tutto quello che si può dire sulla R6 perché secondo me si potrebbero fare video e video nel senso su tutto il manuale ma secondo me questi sono gli aspetti che hanno portato me a fare il passaggio da reflex a mirrorless e soprattutto sono gli aspetti che sono importanti da sapere perché sono la vera differenza il vero salto nel mondo mirrorless ok tutte le altre impostazioni poi sono le stesse che ci sono un po' in tutte le macchine più o meno professionali ma sono in tutte quindi io vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto e se è così mettete un like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto in modo tale che youtube vi possa poi riproporre i miei video in futuro io vi ringrazio vi ricordo di andarvi a vedere in descrizione c'è il link se non avete visto il video della messa a fuoco del tasto posteriore perché è una delle tecniche fotografiche che secondo me fanno fare un salto in più alla propria fotografia o almeno provatelo ecco poi si può sempre tornare indietro ma secondo me una volta provato non si torna indietro perché in qualunque tipo di fotografia facciate è veramente un vantaggio ancora grazie alla prossima ciao ciao